Una targa in piazza Marina a Casamicciola per ricordare la visita alla nostra diocesi di Giovanni Paolo II, sindaco Castagna. Sì, è stata un'iniziativa promossa dal direttore Giro Mattera con l'amministrazione comunale in testa dell'avvocato Nunzia Piro. È stata una cosa bella, emozionante, è stato emozionante il fatto che è venuto anche su eccellenza il vescovo consigliere Lagnese. Devo dire la sincerità, siamo rimasti tutti contenti perché è stato bello ricordare quel 5 maggio che l'isola in quella bellissima giornata seppe accogliere un Papa Santo, una persona che effettivamente tutti quanti, l'ho detto in piazza, quel ricordo di averlo visto a 20 metri, ecco, mi dà sempre ansia, emozione, mi porta a questi sentimenti nel senso che effettivamente quando ci si trova davanti a una persona che ha dato tanto, ha fatto tanto, si sente questa cosa cioè riusciva veramente a trasmettere emozioni forti. Grazie.